Nonno 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 E perché piange? Nonno Vuoi casa? Nonno 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 So Quand Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni, lavora, anche faccio i vacanze così. Beh, ma non è proprio una vacanza, no? No, no. Se dici vacanze, però non è vacanza. No, no, no. È difficile stare con delle persone anziane per una ragazza giovane, no? Sì. Ci pensi? Alza, nonno. Io manco. Alza, nonno. Ah, tonta. Alla, nonno, cammina poco a poco. Così? Stai? Bravo. Fermo. Fermo, fermo, nonno. È l'alarma. Ma tu hai pipì? No. Dai. Già. No. , no. Allora, siamo contenti? Sì, siamo qui, sono contenti! Però... No! Chi è? Dì! Io ti ho detto che hai lasciato mezzo cuore mio, mezzo portato qua! Vabbè, lasciami stare! Ciamata! Io... Ciamata! Ciao, ciao! Ci sono in bocino? Ci sono in bocino, sì, ciao! I ha dicevano che non c'è bene, le divorze fanno i non doverso! Cia? 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 Un prossimo! Si, non lo mangiare! Mamma mia Sì Ho capito tutto Grazie a tutti